L'evoluto che è capace di raggiungere una perfetta meditazione. Che cosa fa chi medita? Commento Spesso chi crede di meditare raggiunge solo una modesta concentrazione. Per molti questa pratica non supera il livello di una mera ginnastica spirituale e rappresenta gli effetti di una evoluzione, non le vie per raggiungerla. Infatti, è l'evoluto che è capace di raggiungere una perfetta meditazione e non è la perfetta meditazione che rende evoluti.